Attenzione pubblico, ripassaggio delle concorrenti Attenzione, attenzione, è in arrivo, la grazia si indica Attenzione, dietro la canzone pubblico Facciamoci sentire, 4 gira a termine Siamo praticamente alla metà della gara Abbiamo sentito anche un po' di diretta Collegandoci ovviamente all'Ario Scorte sul canale YouTube Gruppo compatto in questa fase Quindi niente di nuovo, niente di che Rispetto al tentativo delle prime pressi Staccare le avversarie, è tutto da giocare di nuovo Gruppo compatto anche se è allungato E ci aspettiamo comunque ancora qualche colpo di scena Da qui a fine gara, subito nei prossimi giri Andiamo a vedere la situazione in questo passaggio Intanto dietro San Pietro, brava San Pietro, brava Attenzione pubblico, facciamo un attivo alle concorrenti In arrivo tra poco Avremo la macchina, le scorte tecniche prima delle concorrenti Al passaggio saranno 4 giri mancanti, quindi metà gara 4 giri Ma soprattutto abbiamo il traguardo volante Attenzione pubblico, avvicinatevi per il tifo Alle nostre ragazze in gara, le allieve Per la maglia regionale e provinciale 2023 In questo caso per il traguardo volante Attenzione applausi, applausi, 4 giri Quattro giri alla conclusione, 4 giri 4 giri e gole alla volta di Asia Bailtropi All'altra guarda volante In gara al fine della classifica Tutte le concorrenti tra la macchina prepista e la macchina fine corsa Le altre purtroppo fuori dalla gara possono continuare Però ovviamente senza numero